La valigia è stata la trouvai eccezionale della nostra ricerca, per cui il vero punto per cui abbiamo deciso di scrivere questo libro è stato il ritrovamento della valigia. Io porto da quando ho 18 anni un anello che nasconde una piccola chiave. Per tanti anni ho cercato di mettere in tutte le serrature che mi capitassero per mano, le piccole scatole, portagioielli, e non avevo mai trovato la serratura giusta. Fino a quando qualche cosa ha fatto un click nel mio cervello, ho ricordato questa vecchia valigia che stava in un scabuzzino e andando di colpo, di corsa, come una specie di folgorazione, sono riuscita ad aprire questa valigia con questa piccola chiave del mio anello. Questa valigia è stata veramente un miracolo perché abbiamo trovato in una quantitativa di lettere impressionanti dal 1903 al 1945-46, lettere di Raimondo a sua madre, lettere di mio nonno Giuseppe a Madda, lettere di tutta una vita e ci hanno veramente aiutato tantissimo perché è stata la traccia che ci ha convinto. È stata una rivelazione in realtà, abbiamo scoperto tutto un altro aspetto della vita di Raimondo che non conoscevamo. Grazie a tutti. Grazie a tutti.